il fogliolino editore l'albero che non conosceva l'autunno c'era una volta un albero molto giovane era nato in una serra poi era stato trapiantato in un boschetto qui per tutta la primavera l'estate si era trovato benissimo ma un mattino accade una cosa strana le rondini partirono perché se ne vanno chiese l'albero non sopportano il freddo spiega lo scogliattolo sai com'è sta arrivando l'autunno con le piogge e il vento poi giungerà l'inverno e ci sarà giro dappertutto ma come faremo noi che non sappiamo volare chiese l'albero poi io me ne starò il calduccio nella mia casetta e tu andrai letargo che cosa vuol dire penso sia come dormire rispose lo scogliattolo e poi se ne andò l'albero rimase pensieroso da quando era nato non era mai andato in letargo chiederò spiegazioni penso tra sé i gatti devono sicuramente saperne qualcosa non fanno altro che dormire tutto il giorno passava di lì un gatto selvatico e l'albero ne approfittò subito e tu quando dormi vai per caso in letargo come fai facile rispose il gatto giro tre volte su me stesso mi acciambello e chiudo gli occhi semplice rapido pensò l'alberello tentò quindi di girarsi di acciambellarsi e di chiudere gli occhi ma non ci riuscì forse esiste un altro sistema lo chiederò il giro pensò beh disse il giro tra uno sbadiglio e l'altro prima devi mangiare tantissimo e diventare grasso poi ne riparleremo l'albero cercò di mangiare il più possibile ma per qualche misterioso motivo non ingrassava nemmeno di un etto forse la faccenda del grasso non è molto importante penso allora e svegliò il giro per chiedergli qualche precisazione allora che cosa devo fare per andare in letargo devi respirare non più di otto volte al minuto gli rispose pazientemente il giro quando diventerai freddo il tuo cuore dovrà battere molto lentamente probabilmente questo era un ottimo sistema per il giro ma il povero albero non riusciva a fare cose così difficili intanto le giornate si erano fatte più fredde la pioggia cadeva il vento soffiava e la nebbia avvolgeva i rami dell'alberello morirò certamente di freddo pensò l'albero e mentre cercava una soluzione al suo caso disperato sentì che gli occhi gli si chiudevano senza pensarci chiuse istintivamente i piccoli tubi dentro i quali passava la linfa il suo sangue e nutrimento e si addormentò le foglie caddero una ad una e l'alberello non se ne accorse neppure